ritrovarsi attraverso mario del giglio così è la conoscenza tutte le varie forme di vita sono fasi che servono per far comprendere l'esistente si sente dire che dio è in tre persone ma è sempre uno noi dobbiamo sempre ricordare il concetto che esiste l'uno noi dividiamo il tutto perché non comprendiamo che è già esistente sentiamo il bisogno di dividerlo per portarlo alla nostra comprensione altrimenti cercare di comprendere tutto immediatamente potrebbe portarci confusione quando vi si suggerisce come esempio di bere un bicchiere d'acqua piccoli sorsi cosa vuole significare che altrimenti potrebbe farvi male così è la conoscenza va assimilata a piccole dosi come quando si va a scuola non si impara tutto insieme ma un po per volta e quello che abbiamo imparato ci servirà per ampliare le nostre prossime conoscenze così è cari fratelli accettare e assimilare la conoscenza che avete acquistato e vedrete che il cammino sarà sempre più luminoso